Il governatore Michele Emiliano è sceso in campo al fianco di Francesco Spina in un tour che lo ha portato da Giovinazzo a Biceglie. Nei vari incontri il governatore ha sottolineato l'importanza di affidarsi a persone che abbiano già dimostrato capacità di governo e di rappresentare le istanze dei territori. Li abbiamo avvicinati a Biceglie nell'ultima tappa di questo viaggio. Il Partito Democratico e in generale il centrosinistra ha avuto l'intelligenza di seguire le figure dei sindaci più capaci, più rappresentativi, anche di quelli che si sono saputi battere con autonomia e indipendenza senza piegare la testa davanti a capi e capetti delle varie aree. In questo percorso, qualche anno fa, l'allora sindaco di Bari Emiliano ha stretto un rapporto umano, personale, di colleganza con Francesco Spina che poi è man mano evoluto nell'adesione di Francesco, prima la mia campagna elettorale per le regionali e poi previe dimissioni dal ruolo di presidente della provincia, BAT, addirittura l'iscrizione al Partito Democratico. Ovviamente questo percorso è un percorso che ha premiato il merito, il ruolo, non è una candidatura calata dall'alto. Ovviamente, come tutte le candidature politicamente molto forti e ingombranti, non ha mancato di suscitare anche qualche polemica, ma io credo che un partito come quello democratico della Puglia, che candida il meglio dei suoi amministratori, abbia fatto, come si diceva un tempo, la metà del suo dovere. Candidare candidati sconosciuti per esclusiva fedeltà al capo non mi pare che sia la migliore delle garanzie per i cittadini. I biscegliesi, e non solo i biscegliesi, hanno messo alla prova quest'uomo, sanno quello che vale, sanno quello che sa fare e sanno benissimo quello che potrà fare per loro in Parlamento. Sto cercando di diventare un punto di riferimento e questo lo si fa naturalmente proponendo programmi, ma anche dimostrando in passato che le promesse, che sono gli impegni politici che abbiamo fatto, sono stati sempre mantenuti. Il mio spot, che dura 30 secondi, dice proprio quello, racconta l'ultimo comizio del 2013, quando dopo una nota vicenda politica con 12 liste civiche sconfissi una brutta pagina politica della città di Bisceglie dicendo alcune cose, promettendo alcune opere. Dopo quattro anni posso dire, presentandomi oggi agli elettori di questo territorio, che quelle promesse sono state interamente mantenute. Con questo biglietto da visita sto trovando una grande disponibilità ad ascoltarmi e ad avere fiducia nella mia persona in tutto questo splendido collegio, ma soprattutto rifacendomi a questo percorso che il Presidente Emiliano ha voluto introdurre in Puglia, di grande apertura al Partito Democratico, all'impegno civico, alle liste civiche e anche questa sera il Presidente ha portato questo bel regalo al nostro progetto politico con un grande connubio di liste civiche col Partito Democratico sia a Giovinazzo sia nella città di Molfette. Qui coroniamo a Bisceglie un percorso faticoso ma di grande soddisfazione per tutti noi.